Ciao Frogger, come sei? Qui sei, un altro bambino divertente dove ho provato a usare l'artifact Fenix con Spear of Cataclysm Il mio armi è composto da 4 Fireknights 1 Bottle Drummer, 6 Arkan Blades e 4 Horizon Warriors tutti, ma non i Fireknights ho l'Ignite Power Stone e non è una meta build, ma ho avuto molto divertente con loro ho avuto il video e vediamo in game Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti